bk ragazzi qua jolly su un questo non si può chiamare video perché si una settimana senza fare video lo so perdonatemi forse mancherò anche un altro po di giorni perché semplicemente perché ancora mi deve tornare il pc perché ho avuto un altro problema è una cosa da fastidio scusatemi lo so lo so è esnervante io aspetto un mese e mezzo perché mi torni il pc dopo che mi torna gli è felici e contenti dopo due giorni loro a darmi problemi allora in questo video voglio parlarvi prima di tutto di una cosa molto molto importante le magliette e anche un raduno più o meno ora ne parleremo meglio allora partiamo subito dal raduno praticamente il 4 giugno sarò all'etna comics di catania quindi se volete magari non so venire da me a fare una foto comunque parlare per me è un piacere in poche parole girerò appunto la fiera dalle 2 e mezza 3 fino alla fine quindi fino alle 8 mentre per quanto riguarda le magliette ragazzi sto appunto creando delle magliette ringrazio matt appunto che comunque c'è devil cioè per chi è veterano del canale sa chi è devil lo ringrazio infinitamente perché comunque fa appunto la grafica delle magliette come gliela dico io praticamente io ci metto la mente lui ci mette le mani quindi se volete passare dal suo canale link in descrizione e lui non mi ha chiesto una sponsorizzazione mettiamo in chiaro questa cosa però lo voglio sponsorizzare io perché comunque merita tanto 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 e quindi mi piacciono le balene e niente ho finito da jolly tutto oh 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 oh